Il Car Energia andrà ad incidere in parte anche sulle luminarie natalizie padovane. Non saranno ridotte però e resteranno i giochi di luce e di immagine dei video mapping. Sarà però ridotto l'orario di accensione. Le luminarie non consumano più di tanto perché è tutta tecnologia LED e rispetto alla spesa energetica del comune stiamo parlando di cifre che sono residuali. Però abbiamo deciso comunque di spegnere le luci due ore prima rispetto al normale. Si spegnevano le due di notte e le spegnevamo a mezzanotte. Cambierà invece il capodanno per limitare le polveri sottili. Infatti non ci saranno i consueti fuochi d'artificio. Ci sono una serie di misure che prendiamo proprio per evitare le emissioni di polveri sottili nell'aria se pensi ai blocchi delle auto quindi non avrebbe senso andare a sparare i fuochi d'artificio in quel momento dell'anno. Questo non vuol dire che non si possa fare comunque un grande evento. Magari non sarà in Prato, magari lo porteremo in una piazza del centro. Stiamo valutando delle soluzioni belle e innovative. L'aumento dei costi però porterà sicuramente a ripensare molte manifestazioni. L'invito è ad un maggior coinvolgimento dei soggetti privati. Siamo alle prese con delle riduzioni in termini di budget in tutti i settori del comune però i servizi fondamentali quelli li dobbiamo conservare. Chiederemo uno sforzo anche ai soggetti privati perché le manifestazioni, gli eventi possano restare tutti.